Allora siamo qui al sede di Castori Lago, vicino di Cittadella, partenza del Giro d'Italia, la tappa oggi, c'è tanta gente, il mio squadra, siamo in quinto in generale con Simon Yates e oggi c'è un'etapa molto importante, Cittadella, Monte Zoncolan, spero che Simon Yates fai un grande effort oggi, non lo so chi vince l'etapa ma siamo qui al sede di Castori Lago, un nuovo sponsor del Giro d'Italia, un'atmosfera fantastico, c'è tifosi, c'è dipendenti, è un evento molto bello. Grazie a tutti.